Ciao, buonasera, buonasera, Veronica, facciamo vedere il momento dell'uomo ragno, questa è carina, questa è carina, diciamo casa avventura ecco, in cui si intravede un messaggio insomma da parte della persona accanto a avventura in puro stile romanesco e quindi chiaramente scherziamo un po' su questi scontri che ci sono. Sempre molto carine queste dell'uomo ragno. Anche se ultimamente il Presidente parla un po' meno, cerca di tenere. Ci devo interrompere un attimo perché abbiamo...